Inizio col botto, 13 gol al Vissenova, un inizio migliore che l'Ortigeno non poteva avere. Assolutamente, siamo contenti del risultato, siamo stati molto bravi in difesa e abbiamo realizzato molto bene in attacco. La squadra si è mostrata molto covesa e compatta, infatti i 13 gol sono opera di quasi tutte le giocatrici. Senti, una nuova avventura in una due, domenica c'è subito un banco di prove importante come lo Sporting di Fragrèvo. L'anno scorso eravamo due società che si giocavano la salvezza, mentre quest'anno credo che entrambe le squadre possono ambire a posizioni più alte. L'Ortigeno è arrivato a questo punto, cosa può ambire? Qual è l'obiettivo? Sicuramente la nostra ambizione è la salvezza, però la prendiamo come viene.